delle stampanti di Maurizio Costa Beber Grazie Riccardo Buongiorno a tutti, vi prometto solennemente sarò molto sintetico Vediamo se arriva la presentazione Mi sa che non funziona, scusate Si può fare qualcosa per avviarla? Oh bene, dobbiamo tornare indietro Allora, l'argomento di oggi è riattiviamo l'economia E' chiaro che noi in DWS non abbiamo la soluzione in tasca per questo argomento Però se parliamo di manifattura abbiamo un po' di cose da raccontarvi Ecco, qui siamo agli inizi del Novecento E avrete subito riconosciuto una tipica situazione della seconda rivoluzione industriale Quindi abbiamo una catena di montaggio di tipo fordista E prodotti tutti uguali in grande scala Modifiche o varianti poche o nessuna Questa chiaramente era la situazione più congeniale per l'epoca Qualche anno più tardi, qui siamo già a metà anni 70 E siamo in piena terza rivoluzione industriale Abbiamo l'informatica e l'automazione che sta iniziando a prendere possesso Diciamo dei macchinari di produzione Ecco, questa è una tipica macchina utensile Che al contrario di quello che si pensava Non è stata solo adottata dalle grandi e medie aziende manifatturiere Però, soprattutto in Italia, è stata poi acquisita da migliaia di piccoli artigiani E di piccole industrie Quindi di fatto questa tecnologia ha contribuito a creare quella che è stata un po' la spina dorsale Dell'economia degli ultimi 30 anni Ed è stato proprio su questo argomento Che è ovviamente un po' di anni più tardi Che sono stato Ho avuto la possibilità di aprire una start up in Giappone All'inizio degli anni 90 E qualche anno più tardi Nel 97 abbiamo presentato la prima stampante 3D Per uso personal Notiamo che in questo periodo Siamo appunto all'inizio degli anni 90 Quelle che adesso chiamiamo stampanti 3D Erano chiamate macchine per prototipazione rapida Quindi erano dei macchinari che pesavano anche qualche tonnellata E costavano l'equivalente di un'abitazione Erano sostanzialmente strumenti alla portata solo di poche aziende o istituti di ricerca La nostra idea con questa start up Pensate, è un'azienda registrata in Giappone che si chiamava Autostrade E l'idea era quella appunto delle autostrade dell'innovazione L'idea era quella di dare la potenzialità della stampa 3D mano a chiunque E quindi per primi abbiamo costruito da zero Una stampante stereolitografica Laser Ci siamo sviluppati i materiali, i laser, i software E abbiamo offerto, cominciato ad offrire questa macchina Che è andata regolarmente in produzione Solo in Giappone È stato un successo, non proprio perché ne abbiamo vendute credo un centinaio Però è stata una tappa fondamentale per noi Perché grazie a questa piccola macchina Che è un po' una pietra miliare del settore Ci ha permesso di sviluppare per oltre un ventennio questa tecnologia Per arrivare alla situazione attuale In cui abbiamo molte macchine professionali che produciamo Oltre 60 materiali tutti sviluppati da noi Circa 1800 macchine industriali distribuite e funzionanti in 65 paesi Quindi diciamo che da qui poi siamo andati avanti E abbiamo sviluppato ulteriormente la tecnologia Giusto l'anno scorso, proprio qui a Maker Faire Roma Abbiamo introdotto quella che è un po' la ripresa dell'idea iniziale A noi l'idea di dare la potenzialità della stampa 3D a tutti Diciamo che è una specie di chiodo fisso Per cui abbiamo risviluppato il progetto iniziale E abbiamo iniziato la commercializzazione proprio l'anno scorso Di Xfab Che è una macchina, attenzione, professionale È una stampante 3D professionale con molti materiali Però al prezzo, diciamo, a un prezzo accessibile a tutti Più o meno 5.000 euro Quindi anche questo è un piccolo passo in avanti Per, diciamo, democratizzare la tecnologia È un po' come il personal computer del XXI secolo Bene, ora andiamo all'argomento e al senso della nostra partecipazione Di quest'anno alla Maker Faire C'è un progetto che si chiama Fabrica 4.0 Che abbiamo negli anni sviluppato ed integrato Ecco, come avrete sicuramente sentito In questi giorni si parla molto di Industria 4.0 In poche parole Industria 4.0 sono processi manifatturieri Automatizzati e interconnessi Beh, lo facciamo da dieci anni E quindi abbiamo, diciamo, raccolto tutta una serie di esperienze Che ci permettono di avere delle soluzioni già pronte a questo riguardo Adesso vi faccio vedere tre esempi concreti Di Industria 4.0 già da anni funzionante Ecco, questa è una, diciamo, è forse la gran parte Di quello che abbiamo fatto negli scorsi vent'anni La gioielleria Abbiamo, credo, oltre 1200 stampanti 3D Sparsi in tutto il mondo Che stampano 24 ore su 24 Sette giorni su sette gioielli Ovviamente per questo abbiamo anche dovuto sviluppare Dei materiali specifici Per produrre appunto in argento, in oro, in platino E in tutte le materie di questo settore Perché l'industria della gioielleria e del lusso Utilizza i nostri sistemi Perché è chiaro che si sta trasformando completamente il mercato Con le nostre stampanti 3D industriali Possono produrre qualsiasi quantità Qualsiasi forma In qualsiasi momento Quindi eliminano completamente magazzino, scorte Producono real time quello che serve Un altro esempio concreto di Industria 4.0 È il settore dentale e medicale in genere Abbiamo macchine specializzate E anche qui materiali Che abbiamo sviluppato appositamente E già certificati a livello internazionale Che ci permettono di produrre In pochi minuti protesi dentali Abbiamo raggiunto il massimo livello di certificazione Di biocompatibilità E quindi con le nostre stampanti Si può produrre direttamente protesi Ecco, è come possiamo anche evincere Non c'è niente di più Se vogliamo 4.0 di una protesi dentale Perché ogni pezzo è differente dall'altro Quindi qui c'è bisogno della massima flessibilità E della massima affidabilità Il terzo esempio Che è anche l'argomento Diciamo della nostra partecipazione E del nostro stand qui a Makerfer Roma È l'occhialeria E qui abbiamo sviluppato materiali Questa volta che abbiano le caratteristiche fisiche Quindi l'elasticità Tattili e estetiche Per produrre direttamente occhiali Allora, questo è il primo prodotto All'interno del nostro programma Fabrica 4.0 Si chiama 030 Cluster Ed è, diciamo, un'integrazione Delle nostre macchine maggiormente sofisticate Le 030 Sono delle stampanti 3D multilaser Che abbiamo sviluppato qualche anno fa È una tecnologia esclusiva Che ci permette Grazie all'impiego di più laser in simultanea Di eliminare sostanzialmente le linee di stratificazione Degli oggetti stampati in 3D Riusciamo quindi con questa tecnologia A stampare, se vogliamo, fare un paragone in 4K E producendo direttamente prodotti finiti Quindi senza bisogno di doverli ulteriormente trattare Ecco, questa è una linea di macchine Che in funzione del nostro stand E sta, secondo i dettami di Industria 4.0 Sta producendo in questo momento real time Dei prodotti industriali Che potete vedere dall'inizio alla fine Quindi dal concetto alla produzione al delivery Tutto, diciamo, gestito da un unico software integrato Che ne controlla tutte le funzionalità E tutte le, diciamo, tempistiche Allora voi mi direte Benissimo, però sono macchine complicate Sono macchine magari molto costose E questa Industria 4.0 Sarà quindi, diciamo, appannaggio solo di grandi aziende Beh, noi abbiamo pensato anche a questo E soprattutto abbiamo pensato agli artigiani Abbiamo pensato ai singoli professionisti Abbiamo pensato ai makers Abbiamo pensato alle start-up Dare a loro la possibilità di utilizzare Industria 4.0 Smart manufacturing Per produrre direttamente le loro idee E quindi abbiamo realizzato quello che è il secondo prodotto Che vedremo nel nostro stand Anche questo in funzione, in tempo reale Si chiama XFab Cluster Ed è una configurazione integrata Di più unità XFab Che permette a qualsiasi azienda di piccole dimensioni O appunto artigiani O makers O start-up Con un investimento molto limitato La configurazione minima Siamo intorno ai 10.000 euro Quella che vedete Siamo intorno ai 40.000 euro Quindi grosso modo il costo di un'auto Di media cilindrata Di poter accedere immediatamente al mercato Quindi di mettere immediatamente il giorno stesso Il loro prodotto nel mercato Consegnarlo E quindi con questo io vi do il benvenuto Nella quarta rivoluzione industriale Grazie a voi Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille